Ma mia gustoso tesoro, cosa vuoi Anna? Che cosa c'è? Io ho fatto il reperto e mi ho tolto tutti gli edifici Ma adesso non ho più i pannelli per ricomprarli Devi premere, ma perchè Anna? Per uno, per uno devi premere, sei un animale Che animale sei? Un pinguino sei Non sei un pinguino? Ma quanti ne hai? Quale soldiato? No, no, basta, io sono strarico tra un po' Guarda come sta salendo i miei bilioni tra un po' Ma in un petto secondo Hai pagato, hai pagatissimo No, no, sei solo invidioso, non ho pagato 12 milioni questo 17 milioni, 19 Eccolo che arrivano I 20 milioni su Rebert Ariusure Ah, hai perso tutto Ah, ma tanto guarda, guarda No, non posso Devo lavorare Guarda, per uno Guarda, è per cento adesso Guarda se io lavoro Adesso compro il signore che va lì a gestire Compro lo schiavo Sì, sì, è quello che voglio fare Però no, prima devo comprare altre attività E ho bisogno di aiutarti soldi Compra la gemma e compra il pet La gemma e il pet Eh, per favolo Ma qual è la gemma, scusa? Cosa è la gemma? Cosa è della gemma, sì Il diamantino Ecco, il diamantino Ma non ci arrivo a un cui, scusa, non ce l'ho Cosa è una gemma, 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 scusa, non ce l'ho facciamo così va uno spettatore grazie no ok stiamo a pro se stiamo a pro iniziamo se non stiamo a pro prediamo stavo dicendo sono scemo che cavolo faccio ciao c'cchona ciao bro ciao bro ciao ciao c'cchona oh abona abona ampe got me down face that's making me feel like come on oh abona i i i i i i Vediamo il Jason qui, mi posso mettere, io di tutti ce lì ho il Jason, questo qua mi fa schifo, questo è il mio Jason preso lì Raga vado un attimo in bagno, ad hoc Grazie a tutti Buongiorno, chi è Jason? Che fortunato, io non sono mai Jason a dire la verità, cioè una volta mi è capitato, era stato il... Oh no, se no, il 17, il 17 febbraio 2018 ero Jason, non mi è andata bene, cioè dovevo andare al catechismo, che per strana fortuna Qua niente, un cesto, questo è un buon grande Vediamo se si stacca un bel fucilazzo Eeeh bel fucilazzo Guarda, a me mi serve il fucilazzo, non posso stare senza andare Vediamo se... Io adesso... Corro piano, corro piano Almeno per non essere sentito Non mi sento pochissimo Ma io faccio un musico Mi sento pochissimo Guarda, 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 guarda Guarda, guarda Adesso non mi sento Eh no, ora mi sento Eeeh cavolo, ma tutti gli altri sono... Dalla parte del mondo No! Un fucile Mi è venuto un infarto Vieni Jason, vieni che ti do una fucilata Se mi sto fermo Lui non mi può sentire Guarda, quel cos'è Eeeh 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 non ho mai capito se quella lei era una una befa un attimo su whatsapp sono un mio amico cretino aderito non è abirito mi confondo le lettere picco aderito ho ucciso la luce finalmente ma potevo lasciare che è buio aderito aderito abbandonato abitornato 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 umbittornati io mi sto qua tutta la partita quella partita è una partita oh cavolo no non ci provare da là non vuoi venire da là non lo so allora se non mi vede io ho un'trè ah ad ora ah C'è da tutta la... Domenciarmi se... Lì dov'essere andata Ok, se questa musicetta va bene No, devo guardare la mappa Mi conviene stare Sì, io lascio tutto così No, 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 no Sì, se muore questo sono soltanto io Quando non si sente una musicetta Ho ansia E te pareva che dovevo restare soltanto io? Ma tu... No, raga avete visto quasi tutto viola sta nelle mie vicinanze Gesù io però sto fermo ma Gesù non vuol dire se li ha ammazzati tutti quanto tempo rimane no 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 non, non, non qua, 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 qua no, mi ha ucciso libera di lei, no no, 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 questa scena è brutta da questa però voglio scrivere una volta a Jensen tu è morto è tua sorella forse è morta non so, in che dopo faccio e mi vede che una un clio03 se clio03 mi rispondesse sarei più felice oggi a luna di maggior giorno oggi alle sette di mattina io li faccio sempre videochiamata ma cavolo non mi risponde le tre non mi rispondesse nel miglio 802 non mi rispondesse qui 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 se nessuno ha questo anche io sono più fortunato so se mi metto che mi metto che mi metto che mi metto che mi metto ah mi metto lui ok libera ok si vorrei cambiare ma ora non piacere non piacere non piacere non piacere che 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 metto questo l'ora un giudizio non mi piace si mi piace voglio essere lui non piacere non piacere non piacere per me se non lo metto anch'io si non mi metto il sangue T'angue. Wahahahaha. Oh, come on. E' gutta. E' gutta. E' gutta. E' gutta. Tic toc, tic toc. Stiu. con le mani sui gaippi signorita 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 la canzone signorita che canzone sarà raga eccola io tutta non la so tutta che c'è 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 ho detto in questa trovo un cortellino cortellino che c'è che c'è che c'è qui c'è Ciao amica, ciao Non che ho io l'idea, ciao Non mi piace Non mi piace È vero Is anyone there? Is anyone there? Ah, non mi piace È grave bisognavi di tua pompa! Jason è vivo! Jason, aiuta! mi aiuta! ora vado a prendere le chiave, grazie! vai, mi serve soltanto la batteria oh mio dio! c'è un corpo morto? che orrore! oh cavolo! no no no! ciao 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 ciao! no no no, armi, perciò non posso aiutare nessuno ah la la, cari 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 armi da l'amico! scappa, non so come, non so mai madonna! corri, corri, corri! corri, corri! non ci sono domani! corri! ti prego amico, apri! apri! che stai mongolo! aiuto! questo è proprio un mongolo! questo è proprio un mongolo! questo aiuto! è proprio un mongolo! eh io non voglio stare! aspettatemi! 130 cavolini! siiii! wow! a me non posso più! corre! corri corri! corri! a me non mi stai girando male! ah! cavolo! no no no! guardiamo che è morto! cavolo! guardiamo che è morto! che stai girando corre! eh me sto nervi! no 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 no, andate! vai mano no! no 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 adesso è lungo ok allora, non mi viene se non vengono da me, mi attinano un Jason guardate, guardate, immaginate che non arriva uno di quelli poi non so più come la stupostore se vi faccio io così lo so Quando siamo in cinque? Uno, due, tre, cavolo Una, 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 una Ma, mi pare che qua... No... Ancora Ah, no, 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 no. I think I'd put that on, right? Va va, metti motto. It's started. Si, corre, si, spreccia. Come and I'm so mai. Spreccia. Sprecciare. Si spreccia, 130. E abbiamo vinto. E io e Tommy abbiamo vinto. Madonna. Tu sopravvissuto. Perché c'è ancora la chiave? Va 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 va. Tu sei scema, amico. Perché non sei venuto? Amico. Ma ancora 11 minuti? Ah, che nabbo. Guarda come un friccio. Taz. E taz. Ah, ma quella è l'abbandonata. Che nabbo. Che nabbo. Ma ancora 11 minuti? Tu sopravvissuto. Immagrapp brigli. Ma ancora 11 minuti? Ma ancora 11 minuti? Imposivo toci. Ma ancora 11 minuti? Ma ancora 11 minuti? Ma ancora 11 minuti? Ma ogni touch è so che è la 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 È troppo la 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 Oh, vuoi what you've been rime Oh, you'll keep in call For your life Live in Miami The river's here from summer So you're trying to love For I am la la Oh, la 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 Oh, la 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 Waitito for hours Sì, sì, sì. accompagna fino all'inizio dell'estate le nostre litigate mi chiede per gli avarati ma adesso non serve un posto con vino caldo e una casa per noi soltanto io tu sai dove dimmi dov'è, dimmi dov'è, dimmi dov'è, quando questa sera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida di un condannio del traffico perché dimmi dov'è, quando questa sera non arrivo in ritardo, scusando parole, non ho più nessuna scusa, dimmi dov'è, quando e se il tuo treno passa una volta no, oggi non voglio essere io, e io non mi parlo va va Ho bisogno di fare qualcosa, ho bisogno di scavare! E basta ragazzi, io tiro Gerson perché voglio morire malamente, questo è scelmo un pochino, questo si fa così, no ho sbagliato tutto! No mi scrivevo! Non mi dice, no è vero, non mi dice, ho ricordato! Ok ok ok! Nel 1984... Un morto! C'è successo? Ci sono morto? Ed è quello dall'inizio! Non lo fai a fuoco, ma. Non lo fai a fuoco, ma. Non lo fai a fuoco, ma la stendi. 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 Dio, non lo fai a fuoco. Solo un corpo morto! 2 live una di due 2 live 2 live credo che faccio anche quella di rainbow raga non so che cavolo fare oggi si credo anche quella di rainbow io c'ero, io c'ero, io c'ero io c'ero, io c'ero ma nooo è possibile? vabbè è meglio almeno non devo avere problemi abbiamo preso elio poi siamo saliti più in alto, più in alto e non voglio tornare aria finisce con aria non so non so non so non so non so non so dai 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 è arrivato dai 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 mi riposo perchè ora non c'ho più voglia devo sbagliare la trascola ma prima cosa facevano? che nobile dai dai nobile non sono lungiti che nobile non sono lungiti sono troppo assente che non sono lungi non sono lungi mi sto cadendo mi sto cadendo allora che carino non voglio tornare L1 R2 nooo aiuto grazie per la battenza no se mi lasciate da solo giuro che sclero un maiale maiale aburk affoggia il dialetto dice aburk aspettatemi voglio anche io fare la festa con jason ma dai dai a bro nooo 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 la mia skin sconvolta vicino alla macchina nooo è morto si si è morto tutti i sopravvissuti tranne tu sopravvissuto tu sopravvissuto come parlavano un tempo uomini dell'africa 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 africa mamma oggi ho ucciso solo 4 persone ora pago un pisello ora mangio tic tac ora gioco a switch ora gioco a ps4 a jason che hanno fatto il gioco calato gli occhi sia in un gioco che dicono che ci sono stati calati degli occhi ma non credo voglio essere io jason raga sh ve ah ah mi faccio con i finocchi ok raga la live si conclude ci vediamo fra un'ora nella prossima live a dopo ciao ciao ah ah